Sostegno, siamo a ridicolo, ora basta. A fronte di 12.000 cattedre in meno su tutto il territorio nazionale, a fronte delle proteste di migliaia di famiglie, di alunni disabili ed impegnanti precari di sostegno, udite udite, Fioroni autorizza 702 cattedre di sostegno in tutta Italia, solo a Salerno ne mancano più di 800. I precari e i genitori degli alunni diversamente abili della provincia di Salerno, impegnati in quest'ultimo mese in una crescente mobilitazione in difesa del sostegno, individuando nei DS e nella Margherita i partiti responsabili di tali tagli, fanno loro appello al boicottaggio al PD, promosso dai docenti precari di www.precarisalerno.forumapp.it e www.precariscuola.135.it PD, il partito dei tagli? No, grazie, non voto. Il 14 ottobre tutti gli italiani saranno chiamati a votare democraticamente per l'elezione dei vertici del nuovo partito democratico, di cui faranno parte anche il ministro della pubblica istruzione Fioroni e il viceministro Bastico. I docenti precari sono molto delusi dalla politica scolastica messa in atto dal ministero, visti pesanti tagli agli organici degli impegnanti di sostegno, molto penalizzanti nei confronti degli studenti più deboli e bisognosi di aiuto. E l'assegnazione degli ispezioni orario inferiori alle 7 ore ai docenti già di ruolo, decisione che oltre a sottrare possibilità di lavoro ai docenti precari, comporterà un aggravio della spesa della pubblica amministrazione, visto che gli ispezioni devono essere retribuiti in base allo stipendio percepito. I docenti precari chiedono quindi 1. La restituzione delle carte due tagliate sul sostegno in tutta Italia. 2. L'assegnazione degli ispezioni orario inferiori alle 7 ore ai docenti precari. 3. L'immissione in ruolo di tutti i precari presenti nelle graduatorie esaurimento, con un piano pluriennale di assunzioni che dia una soluzione definitiva alla piaga del precariato. In mancanza di un deciso accambiamento nella politica scolastica dell'attuale governo, i docenti precari del forum www.precarisalerno.forumapp.it e www.precariscuola.135.it invitano tutto il popolo della scuola a boicottare le prossime elezioni dei vecchi del Partito Democratico rifiutandosi di partecipare a delle consultazioni farsa di un partito già nato vecchio ed obsoleto, del tutto incapace di dare risposta ai bisogni reali della società. Le associazioni www.precarisalerno.forumapp.it, www.precariscuola.135.it, Comitato Genitori e Alunni Disabili di Salerno, Comitato Insegnanti Precari di Salerno, Info 34923444625.